Quali sono i veri benefici della lettura? Eccone 5 e sono sicuro che del quinto non hai mai sentito parlare. Leggere riduce lo stress, ci aiuta a rilassarci, a concentrarci di più. Leggere prima di andare a dormire ci aiuta a dormire meglio e leggere può essere semplicemente divertente. Leggere può essere anche un ottimo allenamento per riappropriarci della nostra attenzione. Viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati di stimoli che dissolgono la nostra attenzione. La nostra attenzione è una vera e propria merce per cui le aziende, gli influencer, i youtuber competono. Ed ecco perché oggi più che mai è molto complesso concentrarsi. Ci sono letteralmente schiere di ingegneri dietro i nostri cellulari che fanno a gara a trovare l'ultima invenzione per tenerci di più incollati agli smartphone. Leggere è un po' un atto rivoluzionario. Leggere è proprio quindi la rivendicazione del nostro diritto.